Inizio, due, uno, missione, e liftoff! Perché esce il 30 di settembre, io ce l'ho da fine agosto, da quanto mi ricordo, ma diciamo l'ho provvicchiato e ve lo voglio portare. È un gioco in cui interpreteremo un investigatore con uno scuro passato, con dei poteri unici. Lui ha questo omino qui che vedete. Io credo, però credo si scoprirà nel corso della storia, lo vediamo solo noi. E lui ci dà consigli, insomma. E deve lottare il nostro personaggio costantemente con i propri incubi. Infatti non è la prima volta che mi ritrovo a combattere nella psiche con una sorta di nemico incappucciato che mi insegue. All'interno di mondi generati probabilmente dalla mente, però sarà da chiarire. Che succede? In gioco è sparito un bambino e noi ci siamo recati su quest'isola per investigare su questa scomparsa. Ci sono dei misteri legati anche al nostro datore di lavoro, che praticamente è il possessore. Adesso non ricordo esattamente di fosse dei trasporti petroliferi. Insomma, ha causato un disastro naturale e quindi di conseguenza non è ben voluto. E la scomparsa del figlio sembra quantomeno sospetta. Sto girando tranquillamente per questa casa. Sono arrivato alla casa di questo proprietario, diciamo, il nostro datore di lavoro. Dobbiamo cercare suo figlio. E superando un paio di sezioni, diciamo, di flashback sulla mia mente. Non sono state facili. Il gioco è un indie, si vede, sia dal punto di vista delle espressioni, sia dal punto di vista, magari, della legnosità ogni tanto, del movimento. Ma ci può stare, perché io lo trovo davvero molto d'atmosfera, sia a livello di musiche che a livello di ambientazioni. Infatti, quando iniziamo e veniamo, diciamo, accostati da un'auto che ci propone questo lavoro e noi siamo in una zona portuale, con la pioggia, è tutto molto, molto immersivo. Bene, andiamo. Sentite la musica. Mentre noi avanziamo, osserviamo questa villa, ovviamente, una villa piuttosto vecchia, perché c'è un tanto, tanto spreco di spazio. Beh, ci dirà il gioco dove andare. Oh, Petro. Il gioco è in italiano, doppiato in inglese. Per vedere, i documenti sono tradotti. Siamo qua in Thailand, una quantità imprecisata di petrolio fu uscita da un orodotto della Petro Mobile, che è quello, la ditta incriminata. Ma, riversandosi nell'On River, le autorità hanno arrestato il flusso di gareggio e evacuato i residenti prossimi all'aria, interessata a causa dell'eschio di incendio e di emissioni tossiche dovute ai vapore emessi dal petrolio. Le cause della rottura non sono ancora note, si sta cercando. Ok. Thomas Barkley, presidente della compagnia, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Ok. Eccolo. Benvenuti, signor Burton. Ho arrivato qui così rapidamente che potrei. Per favore, sentite. Siamo parliamo. Ho chiesto a Charles per la massima discrezione. Spero che nessuno vi abbia visti insieme. Il perché, poi immaginando. Sembra che la gente qui la detesti. Se ci vedono insieme potrete avere problemi. I giornali parlano di noi e ci descrivono come acuti. L'uomo dei sogni, ci chiamano, è suggestivo. Perché appunto sanno che noi abbiamo dei poteri sovrannaturali. E poi c'è chi ci crede e chi non ci crede, insomma. Delle mie tre figlie, Elisabeth è stata l'unica a darmi la gioia di avere un nipote, Simon. Quindi è sua nipote che è scomparso. Adesso me l'hanno portato via. L'aveva portato via qualcuno del mondo dei sogni o del mondo della realtà? Voglio il suo aiuto, signor Burton. Voglio che lei riporti Simon da me. Quando e dove è stato visto l'ultima volta a suo nipote. A casa, più di 48 ore fa, sua madre e suo padre erano assenti per lavoro. E quando sono tornati, Simon è sparito. La domestica che si prendeva cura di lui è stata colpita alla testa durante il rapimento. E ha perso conoscenza. Ok, qua mi fa pensare al mondo reale. Non si ricorda niente. Abbiamo perlustrato l'intera isola con l'aiuto della polizia. Ma non abbiamo trovato niente. Però c'è un sacco di particolari, il quadro. Non è stato richiesto riscatto. Se qualcuno l'ha rapito, non è interessato i suoi soldi. A qualche sospetto. Questo è il bambino. Ci sarebbe una persona in particolare, un attivista, violento e razionario. Frank Bundy. Odi a me e la mia famiglia da anni e diversi precedenti per vandalismo e manifestazioni contro la mia compagnia. È il proprietario di un bar all'Inville. Andremo lì, allora. Alcune fattorie sparse per l'isola. Mi ha minacciato in diverse occasioni. Una squadra di detetti lo stagiate dentro d'occhio. Lui è abbastanza minaccioso come aspetto, però. Sono stati assunti dai miei figli. E loro non sanno di lei, Mr. Barton. Nessuno sa della sua presenza qui. Non mi fido più di nessuno su quest'isola. Quindi vorrei che lavorasse per me in segreto. Va bene? D'accordo, credo di avere tutto quello che mi serve. Poi non vorrei interpretarste in modo negativo la mia osservazione sulle espressioni facciali. Perché nella grafica io non ho mai prestato attenzione. Sono cresciuto con giochi con la totale assenza di espressioni facciali. Quello che conta è l'atmosfera. Quindi, ecco, vedete, queste erano le visioni. Si sente bene, Mr. Barton? Vole un bicchiere d'acqua. La vedo accaldata. E abbiamo visto un tizio che ci ha salito. Comunque, qua dentro ci sono le informazioni. In più. Beh, penso che... Ho bisogno di andare ora. Ma quando l'investigazione comincerà? È già cominciato. Chi lo sa. Vediamo. Sì, a me non piacciono queste cose in cui si parte in una zona che è chiusa e non ci permette di tornare indietro. Ok, il nostro amichetto qua. Bello il fatto che si fiede tutto il corpo. Sì, andiamo. All'inizio, quando vidi... ...sto follettino qui, dissi un altro gioco un po' alla Tim Barton. Però non ci sta male. Qua prende un po' da Blair Witch, secondo me. Quindi andi là. Trova una via per il lago. Non abbiamo mappa, non abbiamo niente. Il gioco ha... Occupa, diciamo, un 30 giga più o meno sul disco. 20-30 giga, non mi ricordo. Come ho detto, il prezzo non lo so, ma ha dei requisiti anche abbastanza elevati. Probabilmente dovuti magari alla non ottimizzazione del momento. Non lo so. Sì, l'ho letto. Stai per morire. Sono dietro di te. Non svegliarlo. Sì, perché quando io avevo... Ma ho avuto un incubo. Avevo trovato su un foglio scritto ti ho trovato e lui è dietro di me. Adesso. Se tutto questo sia frutto della mia immaginazione, non lo so. Potrebbe essere, dato che siamo usciti da una casa e ci siamo trovati con dei fogliama alle spalle. Quindi non lo so. Comunque è una particolarità del gioco che ogni nemico dovremmo imparare come affrontarlo. Quindi se moriremo il gioco ricaricherà un checkpoint e dovremmo capire come batterlo. Il primo ci ha messo un bel po' perché è dovuto trovare una strada per fuggire da lui. Che è l'amico, adesso il nemico, quello che abbiamo visto prima. Questo è il lupo che è passato prima ed è morto. E qua è tutto chiuso. Sì, siamo evidentemente nel mondo dell'immaginazione, dei sogni, degli incubi. Sì, è l'unico che si è invitato. E magari siamo l'unico che si accettano. Buon compleanno, quindi c'è un 10. Quindi immagino che sia qualcosa a che fare con il bambino scomparso. Mamma mia, ragazzi. Non si salta, cioè si cammina. Quello lì potrebbe essere l'uomo con cui abbiamo parlato prima. O noi stessi addirittura. Siamo noi. Questi siamo noi perché sotto c'è lui. È così che finirà. Non guardare. Mamma mia, questi siamo noi. Ci vediamo in faccia finalmente. Oh cazzo, ho i bei vidi, dico la verità. Cerco di capire dove andare. Ovviamente è uno di quei giochi dove, ok, c'è l'investigazione, però vi godete le atmosfere. Ovvio che è tutto abbastanza guidato, ma vi godete le atmosfere e soprattutto i colpi di scena. Quindi vi mettete lì. Stanza, buia, cuffie. Qua non si passa. E' un po' un frifone quello, eh. E' lui. Non è reale. La tua paura non è reale, ma tu ci credi perché ti sembra vera. Anche i sogni lo sono, i reali, ma ci crediamo perché sembrano veri. Paura e i sogni sono identici. Stessa sostanza, stessa materia. Tradotto bene, devo dire. Stessa sostanza, stessa materia. Sto venendo a prenderti. E ricominciamo a fuggire. Andiamo. Ma correre o no? Sto tizio, ok. E qui, fuggi dal mostro, segui la scena di petrolio. La vedessi la scena di petrolio? Nel wheelie. Dov'è la scena di petrolio? Eccola qua. C'è anche la troccia, ma non serve. Tutti questi anni nascosti in quella stanza. Vengo a ripirare le bugie. Sei fiero? Sei fiero dell'uomo che sei diventato detective? Ho perso il petrolio. Continuo a andare qua. Eccolo qua. Quando mati è senza fiato, rallenta per recuperare. Ok. Mi sta ritirando verso di lui. Ma non vedo il... Eh, lo so che è qui. Credevi veramente che non sei ritornato per riscortare il tuo debito? Ho sperato di continuare a vivere la tua vita come se nulla fosse successo. Come un ladro, un codardo. Ma gli abbiamo fatto qualche torto a sto tizio. Gli abbiamo fatto qualche torto a sto tizio, secondo me. Ma dove cacchio devo andare? Ecco, questo è abbastanza... Sei in grado di aiutare nemmeno te stesso. Ho sbagliato strada. Mannaggia. No, la cosa fastidiosa forse è il fatto che comunque in queste sezioni di gioco se morite, come probabilmente succederà, dovete ricominciare, da capo. Ma non si può andare di qua? Andare di qua? No. Cioè che non so dove andare, non vedo neanche la traccia di petro. Mi va a trovare una via di uscita prima che lui trovi noi. E che cacchia ne so io dove sta via di uscita? Di qua. Sperando di non andargli in faccia. Il petrolio è qua. Però sparisce il petrolio. Sì, poi angoscia ne mette. Il petrolio è qua. Siamo stanchi. Non vedo se sta arrivando o meno. Poi mi fa questo effetto. Ok, abbiamo schivato il tronco. Il petrolio è qui. Adesso a sinistra. Vedi qua. Se il petrolio è qua. Poi sparisce. Che è più o meno la stessa cosa che ho fatto Quando sono dovuto scappare all'interno di un Di dei tunnel costruiti da Di legno insomma Sono caduto Nell'acqua Immagino Quindi Ok, no Sta caricando Quindi Mi sa che siamo sulla strada giusta Gioco salvato Ok Adesso tecnicamente Siamo nel mondo reale Sì perché ci sono i colori E se mi guardo alle spalle Siamo dove eravamo prima Sì ma stami Ok Casa dei tuoi nonni è il posto giusto Dobbiamo andare a dormire Nessuno c'entra da anni Non ho idea di come sia ridotta L'unico timore che ho E che spero Non diventi ripetitivo Nel senso sezione mondo reale Sezione Diciamo nel mondo reale Dei sogni dove si scappa Poi vabbè Mamma mia C'è a parte la grafica Che bello Non lo so Non li ho mai conosciuti i nonni Adesso era provito a parlare di loro Penso che li odiava Se non lo so Il pazzo odiava tutti Che spettacolo Diciamo che mi sento anche un po' a casa Che le montagne innevate la dieta La luce che arriva Fa l'effetto flare Bellissimo Va bene Abbiamo le chiavi della casa dei nonni E dormiamo E poi inizieremo Le nostre indagini La torcia che possiamo accendere e spegnere Ok Allora da qua siamo arrivati Cioè tu pensi di dormire in una casa del genere Ah non si può correre qua dentro Ok ci vuole far andare con calma Sì è un gioco che senz'altro Va giocato lentamente Quindi se lo volete giocare per correre Finirlo non è il caso Faccio anche che qua ci sia la camera C'è un materasso E per come si è messa tutta l'avventura Io avrei paura di addormentarmi E qui che è iniziato tutta l'ossessione per i dipinti Ok La mattina partiremo verso per l'Inville Le nostre indagini inizieranno lì Buonanotte a tu Buonanotte Marti Non ho ancora capito se questo lo vedono anche gli altri Lo vediamo solo noi Ma penso solo noi Perché parlano dell'investigatore che riesce ad agire nel mondo dei sogni Insomma abbiamo questa fama Ok questo è un flashback E questo andrà a chiarire probabilmente anche il nostro passato Trova Timmy Stiamo giocando a nascondino Un gioco in scatola Col drago qua Tutte le vittime sono decapitate in un modo Amichevole Cioè c'è una quantità di Dettagli veramente Veramente carina Cioè veramente fatta bene C'è solo Una calcolatrice Gli evidenziatori Una squadra Un poster con i robottini Cioè c'è un Calciato la palla Questi sono dei dipinti Cioè è un dipinto bello grande Ma sono basso Cioè sono un bambino Si vede proprio la differenza con l'altezza Dov'è Timmy? Eccomi Davanti al lago Pennello dall'arma disarmato C'è il bagno Mi mette un po' di malinconia tutto questo Più che altro perché Se questa effettivamente A parte il trenino che vado solo che è inquietante Però mi fa anche pensare Perché se Qua siamo da tutta l'altra parte Non siamo nel lago Al lago Credo Però fa pensare Nel senso che come era la casa Quando voi erate piccoli Insomma Questa è la lavanderia Si fa di sotto Ovviamente non si apre Sono salito sul treno Civiltà antiche Posso guardare Anche dentro Ma attraverso il buco della serratura Però qua non c'è nessuno Comunque qua la camera La cucina Bella casa Qua c'è Acquario Con il pesce Saliamo su di nuovo Cerchiamolo qui No Non si può interagire con nulla Quindi Sì Con qualcosina si può interagire Classico pollo di gomma Anche per la pipì Che è più grande Quello che è Qua abbiamo tutti i draghi Pazzo di neve Mamma mia Può salire? Sì Abbiamo una spada Un fucile Comunque qua non c'è niente Perché abbiamo in mano Una palla Dominosa Qua non si apre Niente Scendiamo giù Di nuovo Macchina Questo è Evidentemente Un flashback Sul passato Credo Comunque Qua sotto Non abbiamo già visto Che non si può andare Andiamo poi All'esterno Vediamo Questa è la sabbia Per giocare Altre macchine Il barbecue Pieno stile Pieno stile americano Va bene Niente ragazzi Allora Questo era I mago Fatemi sapere Che cosa ne pensate Spero di aver D'averlo preso Abbastanza Diciamo Tranquillamente Per poter Farvi capire Magari Che bisogna Godersi questi titoli Lentamente Con le loro atmosfere Cose che vanno Ben oltre Magari Il lato tecnico In alcuni casi O Il punto di vista Grafico Vedete che c'è Noi con Nostra madre Presumo Davanti alla casa Cioè E' pieno Pienissimo Di dettagli Che poi possono Chiarirci un pochino Quello che è Il nostro passato O quello che siamo Fatemi sapere Qua sotto Nei commenti Che cosa ne pensate E noi ci sentiamo A un prossimo Video Gameplay Alla prossima ragazzi E ciao ciao Noi con Noi con Noi con Noi con Noi con